Ma non è il gatto di Steph e Fere questo? L'hanno rapito, per chiedere un riscatto? Raga, comunque per questa base segreta almeno 15.000 like ce li meritiamo tutti Potere Minatori Burroni, bentornati in questo nuovo episodio della vita in città Come state ragazzi? Spero tutto bene Oggi è il grande giorno perché ci sarà il dibattito riguardo al sindaco della città dopo tra me, Steph, Fere e Marco Comunque ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questa sera dalle ore 21 sarai live su Twitch e discuteremo in anteprima dei voti della vita in città riguardo al sindaco, ovviamente non saranno i definitivi guarderemo quelli del mio canale e cercheremo un pochettino di capire come è la situazione alle 9, sarebbe molto interessante e poi andremo a fare una gara di scavo molto interessante, ma adesso non dilunghiamoci troppo, ah, aspetta se non sei iscritto iscriviti iscriviti, sto aspettando, sto aspettando che ti iscrivi, sto aspettando che schiacci il pulsante rosso sto aspettando che... eh, capito? ok, iscriviti, ti ho convinto, spero di sì allora, come non detto ragazzi prendiamo adesso la moto e andiamo prima di andare dal municipio perché non so se lo sapete ma è stato questo un municipio in onore appunto del dibattito e per il nuovo sindaco che ci sarà voglio andare un attimino dal nostro amico Ettore perché Ettore mi ha chiamato e mi fa uè Marci, guarda che è successo qualcosa di molto interessante hanno comprato un sacco di gioielli io dico vabbè, come al solito eh, ma questa volta sono stati gioielli molto più cari e ho detto ah, ha venduto il final jewel il gioiello quello da 50 mili fa no quasi però cosa vuol dire? andiamo a parlare con Ettore Ettore, ciao Ettore allora, che mi dici? sediamoci allora ciao capo abbiamo venduto i primi gioielli di livello 3 diventerà ricco capo se continuiamo così ma i livello 3 quali sono? ah, sono questi qua raga che ne avevo messi i prezzi dall'ultimo episodio qual è che abbiamo venduto? ma non ci credo raga abbiamo venduto il il verde abbiamo venduto ok abbiamo venduto qualcosa anche qua oh, abbiamo venduto anche quell'arcobaleno normale piccolino abbiamo venduto altro vediamo sì, abbiamo venduto anche questo qua che non mi ricordo che colore fosse credo il il verde sempre sempre il verde raga sono avvissati col verde abbiamo venduto anche il viola credo il viola sì, abbiamo venduto anche il viola e basta basta? ragazzi, ma abbiamo fatto un sacco di soldi abbiamo fatto 16.000 così dal nulla perfetto oserei dire perfetto oserei dire allora facciamo così mettiamo i soldi subito da parte e andiamo subito nella nostra banca e andiamo a cambiare i soldi prima appunto di andare a fare il dibattito sono curioso di sapere come sarà il dibattito ho veramente paura di questa cosa comunque ragazzi voi votate Marci per un cambiamento davvero per un vero cambiamento ragazzi mi raccomando sindaco ex sindaco ormai come sta? è triste vero di questa situazione? lo so c'è un po' di tristezza nell'area perché effettivamente potrei essere io potrebbe essere Marco potrebbe essere Stefano potrebbe essere Fede ma sicuramente non lei mi dispiace mi dispiace tantissimo comunque devo cambiare i soldi ciao devo cambiare i soldi quanti ne devo prendere? ma no ragazzi ma sono tantissimi soldi che devo prendere ragazzi quanti soldi sono? quanti sono? sono troppi ragazzi abbiamo 30.700 non so se qualcuno è mai arrivato 30.700 ma noi ci siamo arrivati ottimo adesso prendiamo la nostra moto e andiamo lì devo aspettare gli altri chissà chissà chi arriverà prima chissà chi arriverà dopo sono veramente curioso di questa cosa comunque questo municipio Marco mi sa che è già arrivato perché c'è la sua moto questo municipio è veramente molto 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 bello e finalmente si è tolto quel palazzo di Yuri bruttissimo ragazzi meno male che se ne è andato quel cattivone ok sono il primo ad entrare perfetto aspetterò aspetterò gli altri ok qua c'è già qualcuno che sta filmando ciao bella a tutti sono il nuovo sindaco votatemi si e adesso ragazzi ci sarà la parte del dibattito fra Steph Fere Marco e Marci non ve la lascerò completa perché sarà uscita sul canale di T-Poc questo pomeriggio quindi andatevela a vedere ma vi lascio qualche cosa carina che è successa e ricordatevi di votare il sottoscritto potere ai minatori vi spiego come funzionerà ognuno di noi a turno dirà una delle proprie cose che appunto vuole fare con la propria campagna elettorale iniziamo e inizio Fere dici la prima cosa che farai nel caso in cui verrai eletta come sindaco vediamo Fere per tutti ok le donut giganti super caloriche allora io ne ho veramente tanti di punti quindi non saprei neanche da dove iniziare però il primo che avevo segnato che secondo me è uno dei più fondamentali è quello di aprire una scuola e dei luoghi di istruzioni nella nostra città secondo me è una di quelle cose che manca manca e manca in questa città bisogna cambiare posso rispondere però la scuola l'ha proposta anche Steph e allora siamo sulla stessa lunghezza d'onda io non sto criticando questa città vabbè a volte capita che i programmi politici siano simili in certi punti Mark il tuo primo punto noi stiamo pagando i mutui delle nostre attività giusto però quei soldi sono fermi in banca cioè non li stiamo utilizzando ovviamente perché non ci sono più banchieri e tutto quanto il resto io ho pensato ogni ogni mese possiamo prendere il 10% di quei soldi ok ce li riprendiamo no 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 quel 10% di soldi venne riutilizzato per fare una costruzione che ci dicono i fan una volta al mese nei commenti dei nostri video e i costi di mantenimento di questa costruzione vengono mantenuti con quel 10% del mutuo in banca il mio primo punto era di fare una grande costruzione l'ottava bellezza del mondo per attirare i turisti nella città perché di fatto la nostra città ha delle persone che vivono ma non ha turisti e i turisti portano un sacco di soldi e lo sa chiunque quello però è vero effettivamente è un buon punto e poi sarebbe super divertente da costruire e da pensare quello più bello che infatti l'avevo tenuto come ultimo punto ma lo dirò adesso per spiazzarvi tutti è che ogni cittadino avrà diritto nella sua piscina di casa nel cortile a un coccodrillo personale siiii siiii vado ne faccio due assieme vi dico il secondo e il terzo io voglio aprire una mensa per i poveri della città ed inoltre voglio aggiungere un parco naturale in città un parco con tanti alberi tante panchi un parco grosso aspetta però un parco grosso io volevo aggiungerlo senti Marco allora è una cosa che non abbiamo mai messo ma secondo me comunque aggiungere una tassa settimanale sul proprio conto bancario aglia aglia le tasse certo io non sono d'accordo ma vi spiego perché perché ultimamente comunque abbiamo notato che c'è molta malavita all'interno della città e questa cosa qua non va bene queste tasse settimanali qui servivano per mantenere dei poliziotti militari che genereranno un pochino per la città e saranno sia partenagia aspetta parlando di tasse ma facendolo in modo serio io ho promesso grazie anche all'ottava bellezza di portare in questa vita in città aziende come amazon google ed apple e a quel punto loro vorranno lavorare dalle nostre parti tassare l'oro e utilizzare quei soldi per portare sicurezza e cultura però sinceramente penso che dobbiamo fare un discorso di chiusura perché ma io non ho detto il mio ultimo punto devo dire anche il mio ultimo importantissimo è quello più importante quello che tutti mi hanno detto di come ti si quello ti farà svoltare allora lo diciamo tutti ma non si contestano vai ok allora vi dico i miei ultimi finali ok allora la cosa più importante che volevo aggiungere io era un profilo instagram social della vita in città dove ci saranno le news di ognuno di noi è una cosa bellissima questa poi quindi renderci più social ok che non mi piace essere social ok tranquillo ma se ne occupa poi un mio impiegato non ti preoccupare ok poi l'apertura di una piscina grande una piscina olimpica dove la gente si potrà allenare tutte queste cose qua per far affogare i poveri ok no poverini dai l'apertura di uno stadio ragazzi polifunzionale dove si potranno fare miriade di sport e dove potremo tenere non si può abiettare fatelo finire dove potremo fare le main olimpiadi e ultima ma non meno importante è l'apertura di una stazione per far arrivare i turisti che poi potranno andare a vedere la statua di Steph nel caso diventasse sindaco lui si potrebbe unire il nostro programma comunque abbiamo anche già l'eroporto potere minatori prenderò in considerazione l'idea di marci perché non è male grazie mille grazie ci teneremo giustatino anche io quella dei bodyguard chi non vuole un coccodrillo avrà diritto a un bodyguard quindi le cose sono state dette saranno i consolini a decidere chi vincerà e i campioncini quindi e i burloni i burloni tutti quelli che ci sono burloni ora che è finito il dibattito non potete altro che votare e se volete il video completo del dibattito lo trovate sul canale di Steph e Fere non ve lo lascerò tutto probabilmente perché è veramente venuto lungo e se no mi verrebbe un video veramente lunghissimo e tutti caricheremo la stessa cosa quindi nel caso vi lascio il link nella descrizione a questo punto ragazzi stavo tornando a casa e ho visto che qua c'è una clipboard diversa dal solito dell'informatore andiamo a leggerla assieme informazione 12 salve capo mi sono giunto voci che qualcuno ha una base segreta nei pressi della zona commerciale quindi immagino quella dove c'è il mcdonaldi eccetera eccetera sentivo dire che era una ragazza purtroppo non ho informazione a riguardo ok perfetta questa cosa ragazzi è mega 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 interessante devo assolutamente andare a parlarne con Gabby perché vuol dire che qualcuno che può essere la ragazza ha una sorta di stanza segreta ha una sorta di base segreta all'interno di uno dei complessi commerciali che ci sono voglio parlarne con lui per vedere se troviamo qualcosa perché è davvero molto importante intanto ciao Antonio so che ti sei non ti sei ancora sbag... oh ti sei sbaggato Antonio finalmente che cavolo non ne potevamo più cavolo dovevo mettere sempre i soldi manualmente porca miseria mannaggia a te mannaggia allora ti devo pagare tieni qua ecco i soldi per terminare le spese e vai guarda che me l'ha già presi tu dai ero quasi arrivato a un sacco di soldi sono tornato a 28 mila mannaggia a te Antonio non si fanno questo io sono arrabbiato con te sono veramente molto oh c'è Gabby ciao Gabby ci mi avevi chiamato prima è certo che ti ho chiamato pensavo avessi il telefono scarico perché poi non mi ha risposto più i messaggi vabbè comunque è successa una cosa brutta brutta ma bella forse nel senso non lo so guarda qua ti metto la clipboard la mettiamo qua così la leggi bene va bene allora vediamo un po' salve capo mi sono giunte voci che qualcuno ha una base segreta nei pressi della zona commerciale sentivo dire che era una ragazza quella ragazza io penso che sia quella ragazza si purtroppo non ha informazioni a riguardo vabbè mi sa che dovremmo allora indagare a quanto pare esatto te ne volevo parlare apposta perché secondo me tu che sei comunque capo della polizia hai idea di effettivamente dove potrebbe essere dove potrebbe non so stanziarsi questa base segreta non so tu hai qualche idea che potrebbe aiutarmi oh si secondo me questa base segreta potrebbe essere molto vicina ma sai cosa io penso cioè collegando le cose la ragazza e il rivale abbiamo detto che la ragazza è la fede del rivale quindi ho pensato al fatto che ci potesse essere qualcosa sotto la gioielleria del mio rivale cioè può essere non so se dico una cosa così a caso non so magari è sbagliato secondo me potrebbe aver senso dato che i nostri sospetti erano quelli eh potremmo andare facciamo una cosa andiamo a vedere perché voglio scoprire se c'è qualcosa realmente ok ok ce l'hai la macchina no vengo con te rubati il kart e via il kart che hai rubato tu poi e adesso l'hai rubato anche tu adesso ti ho fatto ti ho fatto aspetta comunque già che ci siamo vieni un secondo come devo mostrarti solo una cosa vai vai fammi vedere allora stai attento stai attento cerca di non darne l'occhio cerca di non darne l'occhio quando passi ecco ecco perfetto eh stai attento quel tizio là è una guardia dovrebbe essere uno di quei tizi che mi ha attaccato stamattina tu non so se sai cosa è successo ma però mi hanno attaccato degli strani tizi che non so sembra che abbiano dei problemi con la mia gia hanno paura e quindi vogliono farmi fuori allora io penso che sia in gioielleria gabbia adesso magari poi mi sto dicendo forse tante frottole non lo so sinceramente però secondo me potrebbe essere lì per il motivo in cui che ti ho detto prima che lui è lei è la figlia del rivale basta lo so io penso che sia così lo so ma di chi è questa macchina nera ok non lo so sembra la stessa che mi ha inseguito questi tizi sono ancora intorno mi sa per quello è meglio che rimanga in borghese forse dovrei andare anch'io a cambiarmi dopo beh intanto facciamo una cosa entriamo e andiamo a vedere se c'è qualcosa effettivamente qua ti ricordi che era qua esattamente qua sotto ah si c'era un passaggio segreto qui eccolo qua ok ma c'è un gatto c'è ancora ma non è il gatto di stefefe questo l'hanno rapito per chiedere un riscatto ma ma è tutto aperto qua ok è cambiato un bel po dall'ultima volta vero hanno spostato tutto sembra hanno sposto tutto sembra che c'è una hall con un computer qui e basta oh cavolo però se ti ricordi c'era già questa stanzetta che io non potevo aprire cioè io non la posso aprire perché non ho chiavi per aprire questa porta qua forse io potrei avere qualcosa per aprire porte del genere in polizia senti faccio un secondo un salto alla G e magari la prendiamo va bene sicuramente ho delle chiavi sicuramente ho delle chiavi lì va bene facciamo un salto andiamo ti seguo perché secondo me sei dimenticato dove l'hai messo e ti aiuto a cercarla ok secondo me sono da qualche parte ho come l'impressione che siano in un nel luogo tipo delle fogne della G perché a volte cadono lì dentro i cavi non so perché finiscano lì ma vediamo se sono lì dai se siamo fortunati sono lì ah Marci sto arrivando aspetta dimmi lo trovate qualcuno l'ha buttata nel tubo di scarico ed è finita appunto come sospettavo qui il problema è che si è incastrata lì e non posso prenderla come è possibile non lo so aspetta va che c'è un po' di robis devo strigliargli le orecchie sicuramente è stata la donna delle pulizie dammi un blocco vai dammi un blocco perfetto oh perfetto lo prendo meno male ce l'abbiamo ma cosa c'è qua sotto no 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 acido 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 ah è acido sta roba qua stai attento stai attento non toccare saliamo sali sali torniamo là e apriamo tutto vediamo un po' io spero che ci sia qualcosa effettivamente di dentro eh lo so ma che magari non c'è niente secondo me troveremo qualcosa cento per cento per forza allora allora ci siamo provata più essa porta vedi se si apre vedi se si apre ok si è aperta si è aperta bam aspetta siamo attenti eh tutto in bedro qua siamo attenti c'è un'altra porta dici che va bene sta chiave non so che chiave è quella limite a uso aspetta aspetta un attimo io ho questa qua nel caso quella di livello 4 vediamo se va no non va non va prova prova oh si è aperto si è aperta allora è sempre questa vedi le chiavi della politica aspetta piano perché c'è una porta rosa perché la il rosa mi riporta ad una ragazza oh no ragazza devo fare FBI open up vai vai entra prima te che tu sei travestito dimmi se ci sono telecamere FBI open up ma si è proprio una casa di bambole io non entro ci sono delle telecamere si si aiuto mannaggia vabbè ma tu sei spider man allora teoricamente io dovrei cambiarmi in qualche modo devo avere non hai un'altra maschera per me da mettermi se vuoi possiamo entrare uno alla volta e ce la guardiamo una volta ti metti la maschera di spider così è sempre spider tu sei poliziotto comunque alla fine in teoria non dovrebbe dire niente eh non può dirmi niente però può arrosicarmi e mandarmi qualcuno ad uccidermi ok è effettivamente la casa di una ragazza ciao ciao telecamere ciao però sembrerebbero telecamere finte ti dirò perché non hanno non lo so mi sanno di strano non so sono strane comunque si devo vedere se trovo qualcosa all'interno secondo me c'è qualcosa è strano che ci sia una stanza così senza niente non ti fa strano questa cosa così sotto terra no infatti sembra veramente strano che sia di una donna e noi abbiamo parlato di ragazza esatto esatto quindi non è che il rivale e la tua ragazza veramente c'entrano qualcosa secondo me e magari sono parenti ma io ti ho detto secondo me è la figlia è per forza la figlia però dobbiamo trovare vediamo se c'è qualche zona segreta sai che tutti matrono ste zone segrete vediamo un po' se qua c'è qualcosa io non trovo niente non è che in me casa c'è qualcosa qua qua non c'è niente qua c'è qualcosa non c'è niente a questo punto entro anch'io ormai tanto un attentato più non lo so probabilmente sbaglio qualcosa io è dritto non lo so il portatile ho trovato una penna usb ok potrebbe avere delle informazioni oh c'è qualcosa qua sento qualcosa qua secondo me ok non lo so mi sembra che ci sia qualcosa forse mi sbaglio no forse mi sto sbagliando se vuoi il spacco col tuo piccone dici di spaccare lo spacchiamo oh guarda era una porta segreta te l'ho detto mi sembrava strano quando entravo mi faceva andare leggermente più avanti oh oh ci sono dei messaggi ma tutti i miei questi sono tutti i gioielli che ho craftato io oh no ma allora sono loro che te li hanno rubati no ma non credo me li abbiano rubati eh perché non ho mai avuto furti di gioielli di questo tipo solo questi questi due qua che li hanno copiati allora li hanno copiati in qualche modo ok oh c'è scritto qualcosa davvero cosa sappiamo in ogni episodio va in caverna ha finito tutti i geni di livello 3 sta cercando i minerali non ha sospetti riguardo a me forse sa qualcosa sul mcdonald Gabby aiuto hai capito Marci cosa è mi stanno spiando vogliono copiarti tutto hai la concorrenza Marci la concorrenza spietata io non capisco cosa ho fatto io cosa ho fatto di male per meditarmi tutti voi non avete problemi come non abbiamo problemi sono quasi morto dieci volte però diciamo che Marco non è che ha un altro che ha aperto l'IKEA Stef non ha uno che gli ha aperto un altro Marco ha 100.000 debiti comunque vabbè Stef e Fere non lo so loro sono messi bene in effetti effettivamente sono messi bene loro e non lo so boh non lo so sinceramente poi questa ragazza qui non è che mi sta dando molte tracce è un po' come suo papà credo ormai a questo punto che suo padre io non l'ho mai visto in faccia molti mi dicono sia Gustavo se non sai chi è Gustavo è tipo un cittadino che si vede una volta ogni tanto entra nella mia gioielleria compra un botto di gioielli e se ne va potrebbe essere che li ha portati alla figlia per provare a capire qualcosa ha senso non lo so però è stranissima questa cosa è stranissima Gabby cioè non so cosa dire io direi che adesso usciamo rimettiamo la porta al suo posto che dici mettiamo la porta mettila così la chiudo ok ok secondo che è qui vai te la do a te ok la metto io ok in teoria dovrebbe essere così perfetto ma che roba che roba c'è assurda sta cosa va bene andiamocene ciao e telecamere ciao ciao telecamere che speriamo siano finte e io sono pure quella divisa da sindaco perfetto va bene Gabby grazie io penso che nei prossimi episodi scopriremo ancora qualcosa di nuovo sono sicuro di sì non lo so risolveremo il mistero e io se vuoi faccio analizzare anche questa la scientifica fallo analizzare per favore secondo me ci saranno sicuramente video delle mie telecamere ma sai che non so se lo sai guarda aspetta che non penso che tu possa vederlo in realtà oh sei diventato invisibile che cosa Margie come sono invisibile non ti vedo più ciao eh sto usando le telecamere però vuoi usare sta cosa qua cliccaci sopra quel tasto destro clicca sull'uno vedi sono le telecamere della mia gioielleria oh sì 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 stanno proprio guardando la ta eh sono le mie telecamere io non vorrei che lei si sia collegata in qualche modo a queste telecamere e mi stia spiando c'è molta carne al fuoco ma con un po' di ricerca sicuramente possiamo arrivare al nocciolo della questione speriamo però adesso apri che non voglio stare qua dentro io ah sì giusto quasi dimenticavo ok va bene Marci eh mi puoi ridare la mia maschera sai mi serve ah hai ragione ecco qua ok tu riportami il piccone che mi serve guarda che quel piccone di questo sacco prossimo episodio 100% te lo do eh ricorda non è più nel caso sì 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 ho anche la cosina qua è veramente bellissimo ti tratti bene ti tratti bene e lo tratterò bene però devo andare anche di qua criminale va bene è stato un piacere Marci io torno alle mie magiche gesta poliziotto ciao ciao e ragazzi direi che per questo episodio è tutto abbiamo scoperto la base della mia rivale la base segreta della mia rivale e ragazzi sono veramente confuso tutto quello che sta succedendo qualcuno si sta mettendo contro di me ormai l'abbiamo capito ma secondo voi è davvero la ragazza oppure qualcun altro vabbè vi aspetto questa sera su twitch alle ore alle ore 21 torno Grazie.